Questa mattina al Tribunale di Ancona è andato in scena un altro capitolo processuale riferito alla strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove la notte fra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono 5 minorenni e una mamma di 39 anni. Dopo le condanne della banda dello spray che generò la calca letale, oggi sono arrivati in aula i notti rapper Sfera e Basta e Fedez nel filone di inchieste sulle responsabilità strutturali del locale di Corinaldo. Sfera si esibì la notte della tragedia, Fedez calcò lo stesso palco anni prima. I due artisti sono entrati usciti dall'ingresso secondario del Palazzo di Giustizia totalmente nascosti a macchine fotografiche e videocamere. Gionata Boschetti in arte Sfera e Basta in aula ha ricordato che quella sera non si riusciva a respirare, che la gente ha cominciato ad agitarsi, si sono accese le luce e aperte le porte per il deflusso. Sfera ha riferito però di essere andato nel backstage non vedendo le dinamiche dell'uscita. Federico Lucia in arte Fedez ha detto invece di non ricordare i dettagli delle sue esibizioni a Corinaldo datate 2015-2016 ma ha supposto che alla Lanterna Azzurra si siano create le condizioni di più complicata gestione. Un artista dal cascialto, biglietti a prezzo contenuto e un locale dalla capienza limitata. Secondo Fedez era impossibile prevedere una tragedia, era però scontato sforare la capienza e trovarsi a gestire un sovraffollamento problematico.